Noi siamo soliti amare ciò di cui sentiamo il bisogno e che desideriamo, Dio invece ci ama per quello che siamo fino alla fine dei giorni. Celebrando nella Basilica di San Pietro la Messa per i Cardinali e i Vescovi scomparsi nel corso dell'anno, Papa Francesco ha ricordato che l'unico modo per essere davvero cristiani è seguire l'esempio di Gesù, che si è annientato per servire con amore, fin sulla croce. Così un ministro del Figlio di Dio non può che essere a sua volta un pastore pronto a dare la vita per le pecore. A Cardinali e Vescovi il Pontefice ha poi ricordato di non essere funzionari che prestano servizio, ma uomini capaci di amare il prossimo, con un amore che non grida e non si impone, ma sa tendere con fiducia e pazienza, servitori che donano la vita per il mondo, liberi dagli affanni delle cose effimere. Nella Pasqua di Gesù vediamo insieme la morte e il remedio alla morte, e questo è possibile per il grande amore con cui Dio ci ha amati, per l'amore umile che si abbassa, per il servizio che sa assumere le condizioni del servo. Così Gesù non solo ha tolto il male, ma l'ha trasformato in bene. Non ha cambiato le cose a parole, ma con i fatti. Non in apparenza, ma nella sostanza. Non in superficie, ma alla radice. Ha fatto della croce un ponte verso la vita. Ieri pomeriggio, commemorazione di tutti i fedeli defunti, il pontefice si è recato nelle grotte vaticane per un momento di preghiera in forma strettamente privata sulle tombe dei pontifici. Grazie. 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 Grazie.